Mostrare al mondo la Tua immagine, per Cristo nostro Signore. Amore. Padre. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Adoramos Cristo, benedicimos divi, guiate crucem Tu, re del misti mondo, guiate crucem Tu, re del misti mondo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo, Cristo portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Ecco, nella polvere della terra, sta il Divino condannato, schiacciato dal pesto della cruce. Se donaci un cuore di carne affinché possiamo evitare l'esempio del Tuo amato Figlio, donaci speranza affinché in me... Dal Vangelo secondo voce, ma Gesù, portandosi verso di loro, disse... Sì, veni già di faremme, non pioggete su di me, ma pioggete su di loro, e rischette sui vostri figli. Sperso, verranno giorni nei quali si dirà... Sperate le sterili, i grelli che non hanno generato, e i sterili che non hanno... La Vangelo secondo Giovanni I soldati poveri, quando essero progetti su Gesù, prezzero le sue vesti, e ne vettero quattro vanti. Una del ciascun soldato, e la tunica. Ora, quella tunica è la stessa cucitura. E sull'acusso compenso, c'è un appunto. Perciò, rispettano tra loro, non stracciamola, ma teniamo a torta e chi bocca. Così si avventiva la cintura. Si sono divinte tra loro, le mie vesti, e sulla mia comunità, aggettato alla forse. Su una croce il Signore non viene solo innalzato, ma è sveglugnato, un ideato, trattato con uno spazio senza dignità. Il po' del Signore conserva tutta la sua dignità, perché continua ad amare, a perdonare, a rivelare la tonoresce della sua persona per forti. I suoi perseguitori non si accontrano ad eliminarlo, ma vogliono accontrare a rivelare, perché il Signore non si lascia sbogliare senza accadre l'esistenza. Sbagliato della sua dignità, sbagliato come il velo del tempio, come un solo filo, da cima a fondo, come il suo abbandono, ci consegna a se stesso, come dove noi di cui possiamo ancora approfittare, per difenderci dal freddo delle nostre disumanità. Sbagliato di tutto, il Signore si rilega con la croce, come un nuovo Adamo, a semina uscito dalle mani del Criatore, che non ha bisogno di nascondarsi. Il Signore si alimenta a tutti i gradi nella posizione degli uomini, che ognuno di questi gradi è un fatto della redenzione. E' proprio così che il Signore si riporta a casa un uomo sotterrendo di una nuova dignità. Per torna, Signore. La mancanza di generosità. Per torna, Signore. fori una nuova. Per torna, signore. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla cruce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nel luogo detto del cranio. Nel carico vecchio si apporta la tua volontà, come il cielo così interno. Faccio la gente che possa fare il quotidiano. E' l'entrattore di nostri debiti, come loro sperimentiamo tra i nostri debitori. E non ci torna in tentazione, ma in velocità. E' l'entrattore di nostri debiti. 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 E' lattore di nostri debiti. E' l'entrattore 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 di suona questa quale è la testa. E' l'entrattore di nostri debiti. Viens i tuoi between. E' l'entrattore di nostri debiti. Gesù viene desasso, con un milione nel giardino dal quale era stato cacciato Adamo quando si era scattato dalle sue creatore. Ormai il dominio della morte è stato spiegare. Nel momento della deposizione comincia a realizzarsi la parola di Gesù. In verità, in verità, mi dico. Per questo di Giovanni, quando questa era non vuole, rimane solo per il segnale, così che è molto brutto. Nel momento della prima volta, adoro la nostra morte, per cui siamo brava. Perché un po' ci ha lasciato i conflitti. Quanta attenzione, mi ha sentito il tranquillamente. Per tacco lui che era stato messo in prigione per i volte omicidio, e che essi richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e li misero addosso alla croce, da portare dietro a Gesù. Sotto il peso della croce, Gesù accoglie il Cireneo. Gesù appare come qualcuno che, in un certo senso, fa dono della croce. È stato lui a dire, chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Simone riceve un dono, il portare la croce, insieme a te d'amore, che unisce i tuoi cuori in una sola fiamma. O Gesù, aiutaci a portare la tua croce. O Gesù, aiutaci a portare la tua croce. Nella difficoltà e nella lanza per essere più buoni. O Gesù, aiutaci a portare la tua croce. Quando sopraggiunge lo scoraggiamento. O Gesù, aiutaci a portare la tua croce. Perché possiamo essere i tuoi collaboratori coraggiosi nell'annuncio del Vangelo. O Gesù, aiutaci a portare la tua croce. Signore, gesta carità, le sofferenze dei fratelli. Signore, gesta carità, le sofferenze dei fratelli. Signore, gesta carità, le sofferenze dei fratelli. Settra stazione. La veronica asciuga il volto di Gesù. Adoramus te, Christe, benedicimus divi. Qui a per croce in tua, redemissimundum. Qui a per croce in tua, redemissimundum. Dal libro del profeta Issaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Il mondo dona veronica un'immagine autentica del suo volto. Il velo su cui rimane impresso il volto di Gesù diventa un messaggio per tutti noi. I lineamenti del suo amore sono in quel volto. La bellezza di Gesù è quella di aver perso ogni bellezza. La sua forza è d'essersi lasciato ridurre così. La sua luce è quel sangue sparso e ragromato. Nel suo incanto le partebre abbassate. La sua velocità è l'immobilità silenziosa. Il suo diaverma è il cerchio di stile. Il suo desiderio è di imprimere questa immagine nei nostri cuori. Ecco le attrattive dell'amore. Ecco il volto del re. Ecco il volto dell'amore. Vediamo la luce di questo volto. Camminiamo dietro il suo incanto. Ti vogliamo consolare Signore. Della non puranza e del disprezzo degli uomini. Ti vogliamo consolare Signore. Del tuo volto sfigurato nei poveri e negli opprezzi. Ti vogliamo consolare Signore. Del tuo volto sfigurato in noi peccatori. Ti vogliamo consolare Signore. O Padre, donaci l'inquietudine del cuore che cerca il tuo volto. Grazie. Grazie. Grazie.